Alessandro ha ucciso Giulia. Alessandro è un giovane barman che ha anche un SUV. Sapete cosa sono i SUV? Sono quei macchinoni che ti danno tanta importanza, sono uno status simbolo. Alessandro era un barman rinomato, bravo, bravissimo, se non che questo barman col SUV che si chiama Alessandro Impagnatiello che ha ucciso Giulia Tramontano, una sua fidanzata incinta di sette mesi. C'era il fatto però che questo barman potente con il SUV aveva questa fidanzata incinta di sette mesi, però frequentava anche un'altra ragazza e aveva pure un figlio da ancora un'altra donna. Insomma, comunque io la notizia ve la metto come l'in riassunto di questo video, così voi la potete leggere nella sua interezza, perché ieri le televisioni hanno parlato di questa bella ragazza scomparsa, scomparsa. In televisioni sono apparsi anche gli appelli dei parenti di questa ragazza scomparsa, incinta al settimo mese. Ma le indagini si sono concluse rapidamente, perché le indagini hanno portato ad Alessandro, questo barman molto bravo, un barman molto bravo e rinomato, che aveva anche un SUV, una grande automobile. Era un barman che intrecciava tanti tanti rapporti, però il fatto è che intrecciava rapporti, ma non prendeva nessuna precauzione. Si vede che a questo Alessandro nessuno aveva insegnato che esiste, che so, il coitus interruptus. Eh sì, esiste il coitus interruptus. Ah, esistono pure i preservativi, eh. Esistono pure i preservativi, no. Lui andava e lasciava fare tutto alla natura, per cui questa ragazza bella, giovane ragazza, incinta di sette mesi, e lui l'aveva ingravitata, l'aveva ingravitata, il settimo mese, e siccome questa brava ragazza, che ora è stata uccisa, aveva scoperto che lui, lui, questo barman con il SUV, aveva un'altra relazione, forse altre relazioni, e si vede che hanno litigato, hanno litigato. Questo barman, probabilmente, non era più lucido, non era più lucido, perché, come si dice, all'uccello ingordo, gli crepa il gozzo. Aveva questa fidanzata al settimo mese di gravidanza, poi c'aveva un'altra fidanzata, poi c'aveva un figlio da un'altra donna, e quindi, diciamo così, che la sua mente non era più lucida, e lui ha pensato di risolvere il problema, uccidendo questa bella ragazza, che era il settimo mese di gravidanza, capito? Io devo tornare su queste situazioni, perché sono situazioni patriarcali, io del patriarcato parlo in quest'opera, La stirpe del serpente, vedete? Il patriarcato è fatto di passioni, c'è la passione d'amore, c'è la passione per la proprietà privata, insomma, un'infinità di passioni ci sono, va bene? E le passioni sono insanguinate, sono insanguinate, e per questo motivo che succedono queste cose, capito? Terribile, terribile. Ora questo barman, questo barman che aveva il SUV e aveva tante relazioni, finisce in galera, con dei capi di imputazioni terribili, capi di imputazioni che portano all'ergastolo, all'ergastolo portano, perché? Omicidio, occultamento dei cadaveri, soppressione di feto, eccetera. Capito dove portano le passioni? Per cui io qua insegno, qua insegno che il patriarcato è fatto di passioni, per cui noi dobbiamo sapere che ci sono le passioni in modo da poterle controllare, capito? Cioè sapere, sapere le cose vuol dire già cominciare a comportarsi meglio, mica, mica per questioni immorali o etiche o religiose, semplicemente per non finire in galera, capito? Capito, cari amici? Vabbè, cari amici, questa è la situazione, e questo sono io che vi parlo, eccomi qua, eccomi qua, e io vi insegno, io vi insegno che le passioni vanno controllate, e circa le passioni c'è questa mia opera, capito? La stirpe del serpente. Ok, cari amici, a tutti, tanti cari saluti da la stirpe del serpente e da tutte le altre opere di Serafino Massoni. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua.